In questo video vorrei parlarti della modalità manutenzione e del perché un freelance, un consulente, un libro professionista, chiunque lavori in modo autonomo deve evitarla. Per modalità manutenzione intendo quella fase in cui lavori solamente per fornire i servizi ai clienti. E quindi non lavori per te stesso, non lavori per portare clienti dentro il tuo business in futuro. Quindi quando arrivi, capita quasi sempre che si arriva a lavorare il 100% del proprio tempo per servire gli altri, per offrire il tuo servizio. Chiaramente perché siamo ingologiti dai clienti che arrivano, ingologiti dai soldi che arrivano da parte di questi clienti. Il problema è che se ci focalizziamo il 100% del nostro tempo a solamente fornire il servizio, beh, arriverà il momento in cui non arrivano più nuovi clienti, probabilmente. Oppure potrebbe non arrivare perché il tuo servizio è talmente ottimo, talmente richiesto, non hai tanta concorrenza e che si scatene il passaparola. Benissimo, benissimo, però bisogna sempre riservarsi un margine, un margine del 10-20% del tempo in cui lavorare anche per se stessi. Quindi lavorare sul proprio marketing significa trovare 2-3 ore a settimana come minimo per curare il proprio sito web, per scrivere magari un articolo del blog, per gestire i social, quindi pubblicare post nei social, per fare pubblicità a se stessi, per andare a presenziare qualche evento, per dare consigli nei gruppi social, quindi questo serve per farti conoscere. Quindi evitare di essere in modalità appunto manutenzione, cioè manutenzione significa che devi solo mantenere il tuo business e girare la ruota, ok? Quindi correre sulla ruota perché devi fornire servizio, fornire servizio, fornire servizio, far contenti, far arricchire sempre di più anche i tuoi clienti, oppure fare del bene ai tuoi clienti, curare una loro, se sei un fisioterapista, curarli eccetera, però il rischio è proprio questo, che se arrivi a avere il 100% del tuo tempo dedicato solamente a fornire servizio, hai un grande grande rischio. Evita questa situazione e cerca sempre di mantenere almeno un 10-20% del tempo dedicato a te stesso, dedicato alla tua attività, ok? Quindi non te stesso nel senso vai, dedica tempo per la meditazione, per correre, per la famiglia eccetera, quello è extra, ok? Io qui mi riferisco solamente al tempo dedicato al lavoro, quindi nelle 4, 5, 6, 8 ore, 12 ore che dedica ogni giorno al lavoro, ok? Quello che vuoi, dipende dalla fase in cui sei, il mio consiglio è quello di arrivare, il top sarebbe arrivare a 4 ore dedicate al giorno al lavoro. Comunque, nelle ore che attualmente dedica al lavoro, un 10-20% devi dedicarlo a far crescere la tua attività, a aumentare la tua percezione agli occhi del mercato, quindi a fare marketing per la tua azienda, per la tua attività, cioè seminare per il futuro, perché quello che hai oggi, i risultati che stai ottenendo oggi, i clienti che stanno arrivando oggi, sono il frutto di quello che hai seminato negli ultimi 6 mesi, quindi se oggi realizzi un video da pubblicare nel tuo canale YouTube, può essere che quei risultati arrivino tra 6 mesi, ok? Quindi, mi raccomando, controlla bene il tuo tempo e assicurati di non dedicare il 100% del tuo tempo solamente alla modalità manutenzione, cioè solamente a fornire servizio.